Che bello vedere due fratelli così affiatati e poi Achille si taglia le unghie e ride tantissimo, bello! Che cosa fa amore Aki? Che cosa fa con quei denti? Che cosa fa con quei denti Aki? Ma sempre di là! Ma sempre di là! E chi fa bibi? Chi fa bibi quando mangi là? Chi fa bibi? Si fa bibi? Che significa si fa bibi? E quando è la bua? Si fa? Quando chi fa la bua? Chi fa i bibi? Come si fa i bibi? Che significa amore che ti fa i bibi? Quando chi fa la bua? La bua si chiama bibi Sì, chi chi andrà la bibi quando chi prende i bacchino la bibi? Ma no, non è bibi la bibi Non puoi! Chi fa i bibi? Piano! 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 Un po' Amore, devi spiegargli che non può arrampicarsi! Perché? Guarda! Perché? 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 Peri? Colota! Non puoi andare! Oh! Piano! Piano! Achille, questa è una cosa! Peri? Colota! Ok, cerchiamo di spiegarglielo, va bene? Ahia, tu sei! Chi è? Tu sei? Che vuoi di chiamare? Tu sei? Tu sei un brutto! Non è brutto, poverino! Ok, dammi la manina! E... E pronto? Andiamo! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... E... Tic! Pollicino! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... Altra manina! E... Staiamoli qua! E... Tic! E... Tic! E... Tic! E... Pronto? Pronto? Tic! 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 E... Policino! 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 Rosa, mentre taglia le unghie ad Achille, sorride. È difficile vedere un bambino che sorride mentre si taglia le unghie. Ha trovato una buona tecnica. Policino! 004? Lo尊i! Policino! Le complement calma.